Panchine blu contro il bullismo a Rovetta, un progetto avviato già quest'estate e che adesso ha trovato la sua conclusione. Sì, ha trovato la conclusione il 7 febbraio che è appunto la giornata contro il bullismo e quindi è stata l'occasione con i ragazzi per presentare il loro lavoro perché sono stati molto bravi a collaborare con il nostro assessore Savoldelli nel dipingere queste panchine che troveranno collocazione alle scuole e presso la biblioteca. E poi appunto è stato un momento di riflessione su una tematica che comunque deve essere sempre riportata all'attenzione non soltanto dei ragazzi ma anche dei genitori perché è molto importante. Dicevo prima quando ho parlato ai ragazzi che stanno vivendo un momento della loro vita estremamente felice ed è un peccato che per episodi magari di bullismo la loro vita venga in qualche modo rovinata. Quindi sempre attenti su questo fenomeno che è molto importante tenere sotto controllo, l'amministrazione dal canto suo appunto partecipa a queste iniziative ma il ruolo principale più importante hanno ovviamente le scuole e le famiglie. Quando sono state sistemate e riverniciate queste panchine credo sia importante sottolineare anche questo aspetto. Sì, sono state ridipinte appunto per un progetto che è stato realizzato durante il CRE estivo. L'anno precedente avevano dipinto le panchine per ricordare la giornata contro la violenza sulle donne. Quest'anno abbiamo ripreso il tema del bullismo e credo che proseguiremo perché il CRE in questo laboratorio crede molto e quindi speriamo che abbia un proseguo. Un'iniziativa importante nell'ambito della giornata contro il bullismo anche nel solco della collaborazione tra scuola e comune. Sì, la scuola è sempre in prima linea nella lotta contro il bullismo. Il bullismo è un problema, ne dobbiamo parlare, lo dobbiamo affrontare e la scuola lo sta facendo da sempre. In particolar modo quest'anno scolastico abbiamo intrapreso più progetti. Stiamo leggendo un libro, è un progetto che coinvolge tutte le classi della scuola secondaria di Rovetta e Castione. È un libro che si intitola Io ero un bullo di Andrea Franzoso e incontreremo l'autore il 27 febbraio per un approfondimento ulteriore. Sempre su questo solco, come ha detto lei, un progetto sperimentale nelle classi prime è chiamato Baullismo, che con un gioco di parole fa della pet therapy uno strumento per parlare di bullismo in classe. Detto questo, è chiaro che la scuola è sempre stata attenta a questo tipo di difficoltà, di relazione, perché il bullismo altro non è che è un'occasione purtroppo in cui accade un cortocircuito all'interno di una comunità. La scuola, insieme all'amministrazione, come ho detto, è sempre attenta e quindi come comunità educante è sempre attenta a far sì che questo cortocircuito non avvenga e se avvenga intervenire nel modo migliore.